Cosciente o non cosciente noi lottiamo sempre per evitare la morte, per bypassarla, per renderla dolce o qualsiasi cosa. Invece da quando Cristo è stato vinto apparentemente dalla morte e si è trovato nella tomba. La tomba non è più quello spavento, ma diventa un luogo della memoria che uno è passato e ha vinto la morte, perché si può essere liberati dalla morte in tre modi nella Bibbia. Come Ezechea che ha chiesto per quindici anni i Signori gli ha prolungato la vita, come Lazzaro che viene rianimato o come Cristo che dice la lettera del Libre è stato esaudito, cioè ha lasciato la morte alle spalle. La rivelazione biblica ci lascia con la tomba aperta due angeli in bianchi vesti, uno al capo, uno dove erano i piedi, ciò significa due che conoscono integralmente la realtà di colui che era lì e non è lì. Perché cercate uno vivo tra i morti? Per me questa è una cosa veramente fortissima, cioè pensare alla morte significa ormai pensare a una tomba che è stata già visitata. Io alle volte provo a pensare a Giuseppe di Arimatea, che sapienza, che intuizione sapienziale di offrire la sua tomba a Cristo. Se noi offriamo le nostre tombe a Cristo non saremo da soli dentro, ma passeremo così come Lui. Io penso che è importante avere questo nella nostra mente. Mi ricordo quando moriva la mia sorella, stavamo insieme noi due in silenzio e ogni tanto abbiamo detto una o due parole di che cosa? Di come già germoglie una vita che non ha niente a che vedere con questa qui. Cosa ha un germoglio a vedere con Chico di Grano? Chico di Grano sembra una petruzza, ma il germoglio è vivo, succoso, verde e così è la vita che germoglia di chi ha offerto se stesso. Allora per questo motivo che la Chiesa esiste tanto che la morte non stronca le relazioni, non distrugge le relazioni, perché questa vita che abbiamo ricevuto è proprio la comunione in Cristo. Allora se il mio papà è morto è proprio questa vita che si è vissuta nell'amore di Cristo, che continua a vivere adesso, che si continua a avere un dialogo. Anzi, se non fosse così sarebbe una tragedia senza via di uscita. Chi ha sistemato tutte le relazioni nella sua vita? Nessuno. Ma li sistemiamo in Cristo. Dopo la morte si parla ancora ai morti. In Cristo. Bisogna pian piano rendere la morte molto più vicina a noi per poter avere una visione spirituale della morte. Vedi oggi i giovani sanno tante cose su, che ne so, per esempio sulla sessualità. Oggi i giovani ne sa tutto, sembra. Ma la morte è diventato un tabù assoluto. Non si può avere il morto in casa perché c'è il bambino piccolo. Non si deve portarlo a vedere il nono morente perché lui è piccolo, bambino. Non si deve parlare della passione di Cristo perché si spaventa. Invece stiamo guardando la morte sull'internet ore e ore e ore, ma è tutta falsa quella morte. Non c'è il minimo della verità sulla morte. Invece sarebbe bello se la morte facesse parte della vita integrale dell'uomo, del cristiano, perché solo così possiamo far vedere che noi abbiamo uno sguardo sulla morte da colui che è tornato dalla morte. E noi, come dice San Paolo, noi siamo come vivi tornati dalla morte.